Bentornati in questo nuovissimo video signori, oggi scherzo davvero assurdo e infame, infatti probabilmente mi picchierà per questo, al nostro carissimo amico Refiz. Cosa succederà? Io so che tra esattamente 5 minuti, quindi devo essere anche abbastanza veloce, registra un video di Fortnite. Cosa dovremo mai andare a fare se non rovinargli completamente? Significa arrivare la impostazione e tirargli dell'acqua e dargli fastidio, far casino, spingerlo, staccargli da wifi e chi più ne ha più ne metta. Ma attenzione, perché qua c'è un qualcosa che gli altri non sanno, io ora devo andare a dirglielo agli altri, chissà cosa diranno. L'obiettivo è quello di far sì che lui mi picchi, quindi qualora non dovesse arrivare alle mani, sicuramente ce lo faremo arrivare noi. Ma per finta, cosa significa? Che io ora vado a dire a Conti e Pua che gli farò questo scherzo a Refe e dico tipo no raga, speriamo che non mi picchio altro. Refe non sa nulla, quindi vedremo come reagirà, sicuramente comunque le mani addosso non me le metterà, ma qualora comunque non dovesse mettermi le mani addosso, una volta che gli diremo che è uno scherzo, gli diremo, brother picchiami, per finta, ovviamente ragazzi, andiamo di sotto dove ci sono gli altri e facciamo finta che lui mi voglia picchiare per questo scherzo, così gli altri si impersonificheranno nello scherzo che gli avevo detto, hanno detto no regà ha sgravato o qualcosa del genere, ci piccheremo e vedremo la loro reazione. Un casino unico, iniziamo col video, mi raccomando droppate un like, codice ferro nei negozi oggetti di Fortnite e ovviamente iscrizione al canale. Signor Conti, lei è il primo, lei sa cosa dovrò andare a fare oggi? No, ma io voglio dormire. Sai che li fai andato a registrare esattamente adesso un video? Eh bro, non dobbiamo disturbarlo perché... Eh no, aspetta, cioè lui deve registrare ancora un sacco di video, ha detto. E invece il ferro gli andrà completamente a rovinare il video. No, è buona fortuna per te, ti fa male. No, 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 non mi picchia e te lo assicuro, non mi farà veramente nulla, signori. Signor Powa, devo andare a rovinare, hai appena finito di registrare? No, a saperlo potevo farlo anche te in ogni caso. Devo andare a rovinargli un video a Refra, sta registrando esattamente in questo momento. Non so se ancora è iniziato, inizierà breve. Ok. Gli vado a distruggere il video, spero non mi picchi bro, eh. In caso mi prendete, eh. Allora, in caso io non mi assumo responsabilità, ti dico solo questo, però... Porta di questa. Però devi stare attivo. Sì, è questo... Per stare sicuro quando la scopa può sempre servire. È diverso, questa sarà mia prima arma per disturbarlo. Bella. Vi saluto ragazzi, buona fortuna a me, speriamo che non mi distrugga, eh. Io non ho il titolo di questo video, Refra mi denuncia perché lo picchio con una scopa. Non so, no, è esagerato, no, 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 non potrebbe essere. Ok ragazzi, c'ha la porta chiusa, quindi potrebbe... Ok sì, lo sento ragazzi. Sta già registrando, fermi, fermi, fermi. Sono anche bello più dei materiali. Ok ragazzi, sta registrando. È il momento di iniziare a fare un po' di casino da fuori, così iniziamo della sua reazione. Non mi sente, com'è possibile? Dai, no, no, è impossibile bro! Dai, no! La 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 la! Ah, sta arrecchiando? Lì, infatti, sì, zitto. No way, bella rega! No, Nora, ferro! Oh mio Dio, bella ciocchinata. Bella ciocchinata davvero! Però mi lasci stare, mi lasci stare, mi lasci stare, mi la... Scusami, no, dai! Ah, ma stai proprio registrando? Sto registrando bro, madonna! Ah, ma che cosa incredibile! E no, gioco così, ah, ma è ammuzzo. Beh, poteva essere, non lo so, no? Va bene, ferro. Ecco la scopa, brother, ma che stai fatto? Perché dovrei stare fermo? Vai, se lo cecchini, ti lascio stare. No way, no. Oh, basta! Merita, merita... Passa! Sì, ma! Ok, no, dai. Stavo scherzando? Dovevo un attimo darti fastidio, mi dispiace, ti chiedo scusa. La smetto qua, va bene? Sì, va bene, anche l'ora, io lo dico. Vai tranquillo, sì, dai, stavo scherzando. Scusami, ciao a tutti nel video di Refa, ciao! 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 Ciao, 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 ciao! Spero basta! Ok, dai, scusa, basta, davvero. Eh, basta, davvero. Scusami. Hai ragione. Eh, perché hai ragione? Eh... Buono, 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 bravo. Bravo, bravo. Taglia tutto, taglia tutto. Allora, fermi e chiudiamo la porta. Non è andata bene come mi aspettavo, pensavo di essere abbassa molto di più, ma attenzione, perché dalla mia postazione possiamo vedere una finestra che dà esattamente sul balcone di camera sua. Quindi, cosa faremo qua? Ci intrufoleremo, cosa che facciamo qua direttamente perché non vogliamo perdere tempo. Lo spiamo un attimo, porca trota. Allora, ok, attenzione, super attenti, mi raccomando, non lo rifacterò a casa, perché se vabbè, c'è il pavimento, il massimo capito è quello. Ok, attenzione, zitti. Non mi prendo mai, ragazzi, no, perché sono in safe. Allora, ora ragazzi vi faccio un mega scherzone, spero di farlo spaventare e poi ricomincio a urlare in camera sua, sbatto le bottiglie per terra, faccio veramente un sacco di casino. Tre, due, uno, mi raccomando, iscrivetevi, droppate like se ancora non l'avete fatto. Let's go! Let's go, go, go! Scusa, ma è pure il mio deodorante, perché ce l'avevi in camera tua? Fatti i cacchitori, mi lasci fare il video per favore? No, 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 basta, lascia di fare. Non vuoi un po' di deodorante? Senti che profumo! Dai bro, donna! Dai, stavo scherzando, è uno scherzo. Sto registrando, stanto io. Allora, scusami, scusami, ma stai proprio recando un video, ah, ma io pensavo... Ti stassi preparando la registrazione. Vai, 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 registra! Registra, registra, registra! Registra, registra! Dai, ok, no, 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 non morirci. Dici, disturba del giovino questo? No, 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 no. Dai, però, ma tu registrano normalmente, guarda che alla fine... Sono scene divertenti, eh, sono scene super divertenti. Basta! No! Sono una tua di coglioni, eh! Perché? Come perché? Mi sa che non ti ci vede nel video, eh. Basta! Guarda, sono andoli. Guarda la tua camera, guarda la tua camera, Fè. Basta, infatti, toglia! No, no, la tolgo, no, la tolgo, no, la tolgo. Questa rimarrà qua per sempre, la, 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 la... No, no, Fè, via, 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 no, dai, via, via. Dai, tranquillo! Basta! Ma dai, ma fa parte del processo, tu devi vincere così. Aspetta, sei zitto? Se vinci così sono grande. Aspetta, sei zitto, Anzio? Sì, sì. D'orga, cazzo di mano! Scusami, dai, ok. Forse sto un po' esagerando, eh. Cos'è che in camera tua che ti posso rubare? Tipo il Mac. Questo Mac lo prendo io. Esattamente, sì, sì, sì. Questo lo prendo io. Ti prendo il Mac, eh? La, 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 la. Dai, vado davvero, Rafa. Livello 2, anche se l'ho fatto spaventare molto bene altro, non è bastato, ragazzi. Secondo me possiamo fare un qualcosa in più, onestamente, ma non ho idea di cosa. Prendiamo l'acqua, signori, c'è dell'acqua. Ce l'abbiamo, ok? Prossimo round, ragazzi, di bagnarlo. Qua si incazzerà molto e forse da qua potremo davvero far partire lo scherzo dei pugni. È brutta cosa, ma non fa nulla. Anzi, prima direi, andiamo a dirgli un attimo anche agli altri cosa stiamo facendo. Così voglio vedere la loro reazione. Ragazzi, piccola cosa. Vi dico soltanto che adesso vado a riempire comunque quest'acqua. Refe, dimmi testa. Io non c'entro, ora, il Refe, se stai guardando questo, io non c'entro niente. Sì, no, non c'entri nulla. Riempire il Refe con quest'acqua in testa, mentre sta registrando un video. Aspetta, aspetta, ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea. Se vuoi fare proprio un bello scherzo, sai cosa ci devi fare con quella bottezza? Prima pisciare dentro e poi... Sì, esagerato, ok, a 10.000 like, giuro che lo faccio sulla testa di Powa. Non posso dire il video che devo fare da poi a Powa, che gli devo pisciare al nostro. Vabbè, io proseguo con quello scherzo, Refe. Ora vi mostrerò il Refe e l'arma del delitto. Tu, no, 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 no. Nel tempo di tanto non si gira, guarda come è concentrato. Guardatelo come è concentrato, ok, fermi. Aspetta. Apriamo con calma la bottiglia. Raga, non devo esagerare perché c'è la postazione. Fiega. Ok, andiamo in scena. Dai, ti guardo pacificamente ora, Refe, non ti disturbo. Let's go, raga, forza Refe, questa deve vincere lui, eh. No, la vincerò io. Per il suo video, per il suo video, questo è altro, eh. Questo è altro. No, 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 che sto facendo, Cero? Niente. Oh, porca... Vecchio! Vecchio, basta, 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 basta. No, perché hai quitato? Hai rotti i coglioni, Fra. Hai rotti i coglioni. No, hai terminato. Vero, hai rotti i coglioni, Fra. Basta. Sgattando, scenda. Sto registrando, basta. Eh, no, no, capito che stai registrando. La mia... 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 Ok, no, scherzo, è uno scherzo. Oh, hai bagnato tutto. Ma non è vero niente. Sto registrando. No, fermo un cacchio. Ti prego, no, ascolta te. Ti ho macchino, guarda. Allora stai fermo, eh, curbacchione. Allora, no, ascoltami. Seriamente, adesso ti pulisco. Ciò che comunque hai bagnato te ci tengo a sottolinearlo, perché è giusto così. Però ti pulisco io, perché ti ho fatto incazzare. Il video è mio. Mi dispiace, devo rovinare il video di uno youtuber, ho scelto te. Facciamo una finta. Scendiamo da Po e Conti con te che mi vuoi stramenare. Ma è cattivissimo, ok? Sono bravo in questo video. Bro, dobbiamo andare avanti per un bel po'. Dobbiamo fargli credere esattamente che tu mi vuoi supermenare. Vieni, prego. Piano un attimo, io volevo i guantoni. Non ci sono i guantoni che tutti si messi i guantoni. Sono giù, ok? Non li riusciamo a andare a prendere. Allora, in tre. Due. Uno. No, 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 no. Regà, non mi vuole picchiare. Mi vuole picchiare. Non mi vuole picchiare. Non è capito. Boah, boah. Basta. Boah. Non ho esagerato. No, no, proprio esagerato. Mi vuole menare, no, regà. Ma ha spinto fortissimo. È per lo scherzo, lo sapete anche voi. Loro sono complici, eh. Non è vero, non è vero. Sono complici. Bravo, scherza, scherza. Non ho spinto, non ti ho toccato. No, ok, mi voleva menare. Mi hai detto adesso vieni qua che ti pinto, ma ha spinto. Io te l'ho detto di un po' esagerare che devi registrare. Dove sei un po' esagerare? Cos'è vuoi fare faccia a faccia? Vabbè, niente. Vuoi fare faccia a faccia? Non te comune. Vuoi fare faccia a faccia? Non te comune. Non te comune. Non te comune. Tu sei zitto, pare l'italiano. Io, guardi un po' esagerare. Mettili in giro occhio e digli tutta la verità. Che è stato? Dimmi la verità. Che è stato? Tu hai bagnato l'autocamera, quindi hai fatto te la cosa peggiore da solo. Tu mi volevi picchiare in questo momento, ma sono riuscito a scappare. Ma in tutto questo... Perché sta tenendo in mano il telefono Conti, secondo te? Perché voglio... Ferro, tu Ferro stai rischiando tantissimo, eh. Te lo dico. Tu sei un co***o in prima cosa. Perché? Io l'ho fatto perché devo essere comandato per 24 ore. Lui mi ha detto, rovina... Non è vero! Non è vero! Tu sei un pezzo schifoso. Tu sei uno schifoso. Tu sei uno schifoso, Ferro. Tu sei uno schifoso. Non è vero. Teni il suo telefono. Ma in questo caso lascio che la metterà a soli, allora io ce lo confermo e ora prenderò con Ferro. Perché ce lo devi avere con me? Perché chi ha fatto lavorare con i coglioni a me, non loro. Loro sono stati. Picchia, adesso te lo è tu. Un pugno faccio. Allora, ok, andiamo un attimo di sopra, noi tranquilli. Pronti di picchiarmi, è più cattivo. Fai tinta di strassi. Tra picchiarmi così urlano. Prova qua sulle scale. Ah, regà! Ah! Ahia! Ahia! Ah, regà! Non, 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 non. Ahia! Ti prego, bloccalo così! Ahia, mi sta... Mi ha tirato! Oh! 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 No, sono sbaccato le luci! Fermatelo, fermatelo, fermatelo! Mettelo, fermatelo! Mettelo, fermatelo! Guarda, 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 ti è pisciato addosso. Ti sei cagato! Non ci credo! Non so, f*** io bene te! Cosa sta succedendo? Quanto ti calmo neve? Calmati! Calmati! Fermo, ti odio! Lo sta per uccidere? Lo sta per uccidere Boa! No! Aiuto! Lo sta per uccidere Boa! Ok! Fermi! Fermi tutti! Fermi! È un mega super scherzo! Da parte di tutti! Non è vero! Ma è solo tuo lo scherzo! È solo tuo! Aspetta, perché ci sono troppe trame in questo scherzo. Ora ve le spiego super al volo. Libere! Prima voi due ho detto che sei andato a fare lo scherzo a lui. E quello che gli ho fatto, lui si è arrabbiato. Però poi gli ho detto a lui di far finta di picchiarmi per fare lo scherzo a voi. Aia, no! No, non c'entra nulla! Iscrivetevi, di un pato like, loro si possono nominare. Aiuto! Iscrivetevi, ci vediamo nel prossimo video! Il calcio che male! Aia! Tranquilli ragazzi, il colpo che avete sentito era finto. È una carezza amorevole e questa è... È pittura! 500 euro con un prezzo per l'aggresso! Potrebbe essere stata colpa mia! Ci vediamo in un prossimo video davvero! Iscrivetevi al canale!